Siamo ancora in piena emergenza, devo riconoscere che la città sta rispondendo bene, stiamo tutti tenendo comportamenti responsabili, questo è veramente importante perché altrimenti rischiamo di vanificare tutto il lavoro fatto fino ad oggi. In questo momento sono nella sede della protezione civile perché ho appena effettuato un sopraluogo con i responsabili sanitari perché a brevissimo partirà un nuovo servizio a dimostrazione che le cose stanno andando avanti, c'è una squadra che funziona. Il nuovo servizio sarà un servizio per fare tamponi a tutti coloro che sono guariti, questo è un servizio importantissimo perché serve per chiudere un ciclo, quindi sarà un servizio a chiamata, tutte le persone interessate verranno chiamate, arriveranno in auto senza scendere dalla macchina e verrà effettuato il tampone. Ripeto, questo è un servizio molto importante e voglio anche ringraziare i responsabili sanitari per questo ulteriore passo in avanti. E allora ecco il messaggio, continuate a rimanere in casa, continuiamo a mantenere questi comportamenti responsabili perché siamo sulla strada giusta. Sappiate che c'è un esercito di persone a cui voglio rinnovare, a cui voglio rinnovare un ringraziamento dagli operatori sanitari, dai volontari, da tutti coloro che nelle varie formule sono in prima liria, penso alle forze dell'ordine, ma penso anche a quelli che lavorano in quelle attività, a cominciare dalla distribuzione alimentare. Insomma, ci sono tante persone che si stanno preoccupando per voi. Voi non preoccupatevi, rimanete a casa.